come scaricare e giocare così a rocket league sul telefono ovviamente adesso è possibile giocare senza nessun problema senza scaricare applicazione a pk quindi in questo caso poi direttamente come puoi vedere epic games puoi scaricare fortnite fall guys e andremo poi a scaricare anche rocket league quindi in questo caso andiamo direttamente su google chrome vai a scrivere epic games download perché adesso epic games è possibile scaricare il programma android quindi per i dispositivi android ed eccolo qua ed ecco il nostro epic games store lo installi direttamente su android e quando entri su epic games mi raccomando fai anche l'accesso con un account google o ti crei un account entri su epic games ed eccolo qua per ora abbiamo solamente questi tre giochi abbiamo rocket league fall guys e fortnite ed ecco il quadro installi così rocket league vedi se supporti anche i requisiti sul tuo telefono quindi se laghi si installa se ti va benissimo e fluido ti metti a tryhardare sul telefono quindi è facilissimo scaricarlo e installarlo quindi scarichi installi rocket league sul telefono quindi per altri problemi ancora puoi commentare direttamente sotto al video come ho detto se ricevi problemi di lag non soddisfi così requisiti sul tuo telefono se invece vai benissimo e vai fluido puoi giocare e divertirti a rocket league vuoto netto full guys quindi grazie a tutti per questa visione noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao